adesso mostrerò la funzione dell'inserimento delle chiavette praticamente per inserire le chiavette io devo dare il comando qui sotto nella barra di controllo della macchina vedete ecco scusate questo movimento è perché devo far partire la registrazione contemporaneamente governare la macchina la macchina virtuale adesso inserisco una chiavetta da 16 giga all'interno e dirò ecco windows l'ha catturata adesso è di windows non è di linux quindi ovviamente l'ospite può avere qualcosa se il padrone glielo lascia allora bisogna vedete windows ha aperto la chiavetta questa è la finestra di windows io la chiudo e dirò al mio sistema dei dispositivi usb di andare a prendersi la kingston vedete ci sono vari dispositivi collegati la videocamera e tante altre dispositivi però io voglio la kingston data travel g3 è una chiavetta da 16 giga con dei documenti scolastici che ho quindi devo aspettare un attimo che windows ceda la disponibilità della chiavetta eccola qui vedete questa è la mia chiavetta da 16 giga che ho che windows ha ceduto ha ceduto l'utilizzo asso di linux io voglio lavorare su questo giochino di san core me lo porto sul desktop pure faccio doppio clic lì vedete come fosse installato pari pari e adesso mi sono portato dalla chiavetta questo questo documento doppio clic lo apro san core partirà programma per gestire la lima o per gestire l'interazione al pc e ai userò san core eccolo qui che parte san core partito dentro su di linux perfetto bello come il sole non la voglio vedere quindi voi lavorate tranquillamente dentro il vostro computer con su di linux se avessi una macchina più veloce sarebbe tutto più veloce come vedete questo è san core di su di linux living room è un giochino fatto con san core e esci adesso lui uscirà da san core se io volessi fare un documento l'ho modificato piglio il documento lo trascino nella chiavetta smonto la chiavetta e trovo il documento nella chiavetta tanto come l'avessi fatto con windows ovviamente però il proprietario come dicevo prima è sempre windows quindi bisogna chiedere i permessi questo me lo metto della chiavetta ho fatto una modifica ho spostato una parola a dice lo vuoi sì lo voglio e quando voglio smontare questa chiavetta dirò tasto destro e spelli adesso questa chiavetta dove è finita non è espulsa è finita da da windows quindi se io vado a vedere riduco a finestra il mio su di linux dove è finita la chiavetta vedrete qua c'è windows 8 che mi allarga le finestre c'è niente da fare allora ti parcheggio e andrò a vedere in questo pc e se confermato troverò la mia chiavetta eccola lì no la chiavetta la chiavetta deve ancora arrivare dovevamo aspettare che su di linux la molli e quindi vedremo la chiavetta arrivare dentro dentro il desktop di windows eccola credo che eccolo qua si c'è un problema analizzi e correggi ma questo non è dovuto a su di linux perché questa chiavetta qua ha fatto tante battaglie ecco la chiavetta che è tornata da windows e i file di san core dovrebbe essere qua dentro casa e luoghi oggetti open san core salvato da linux ritrovato dentro windows quindi c'è io adesso sto usando windows come vedete vero anzi mi apre un programma windows che no non voglio installarlo prendiamo qualsiasi cosa non so un file ecco questo è un file immagine vedete siamo dentro windows un file immagine con una mappa di colombo io posso lavorare posso fare quello che mi pare e incredibilmente ciò su di linux aperto sotto che posso fare delle altre cose con su di linux ripeto queste cose si fanno con una macchina che sia almeno 4 giga di ram perché altrimenti le cose non vanno per chiudere la macchina devo semplicemente chiudere il sistema operativo lo spengo e poi spegnerò la macchina arresta su di linux e poi quando su di linux è arrestato spegnerò la macchina da file chiudi e la macchina virtuale si dormirà come tutti i programmi windows quando si chiudono sparirà la docu station sta chiudendo si eccola lì sparito e lui si chiude quindi credo di essere stato abbastanza chiaro nel 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 spiegare spegni ok la macchina chiusa non c'è più come vedete e adesso chiudo eccola qui per convincere i più scettici farò vedere che dal pannello di controllo qualora voleste far sparire la macchina virtuale andando in programmi e funzionalità andrete a cercare o o o o o come oracle eccolo qui evidenziate disinstalla e sparisce la macchina quindi windows vi buttatevi la macchina virtuale e con tutti i file e su di linux e quant'altro ecco per dire come in effetti questo ci permette di provare su di linux all'interno di windows ed avere tutte le funzionalità a disposizione per una sperimentazione concreta e performante del sistema operativo ovviamente la migliore installazione è la situazione dual boot perché quella è l'installazione che permette di avere tutti i due sistemi operativi e avvantaggiarsi di software che si conoscono e che sono parte della nostra esperienza scolastica per le guide di sode linux francesco fusillo e vi ringrazio di essere stati ad ascoltarmi perché piuttosto lunga questa guida ma meritava una dettagliata disamina di tutti gli aspetti se ci fossero inconvenienti o domande da fare sul sito di sode linux appunto potete scrivere cliccando a sode linux contatti noi saremmo ben felici di darvi tutte le delucidazioni che ha bisogno questa nuova versione di sode linux per windows e mac vi ringrazio per avermi ascoltato e buona sperimentazione e con i software e lo sviluppo di sode linux